Ormai è certo che anche l'Italia introdurrà l'obbligo del pass vaccinale per i luoghi a rischio assembramento. Il governo è orientato a imporlo per gli eventi, gli stadi e per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. L'ultima parola aspetterà però al Premier Draghi dopo la cabina di regia, ma è già scontro tra le forze politiche. Continua a crescere inesorabile il drammatico bilancio dei violenti nubifragi che hanno colpito i Lander del Nord-Renovesfalia e della Renania-Palatinato nell'Ovest della Germania. 58 le vittime e un centinaio dispersi. La cancelliera Angela Merkel ha definito la situazione una catastrofe. Grave l'emergenza anche in Belgio e Olanda. Intesa tra governo e Commissione europea sulla nuova compagnia aerea che subentrerà dall'Italia, si chiamerà ITA, Italia Trasporto Aereo, e sarà operativa dal 15 ottobre. La flotta sarà composta da 52 aerei che serviranno 45 destinazioni, meno di 3.000 dipendenti per poi crescere negli anni successivi. Durissimi sindacati che hanno definito il piano inaccettabile. Pace ritrovata tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il fondatore dei 5 Stelle e l'ex Premier, si sono incontrati a Marina di Bibona e ora pensiamo a 2050, ha scritto sui social il garante. Sulla giustizia ci faremo sentire, ha ribadito Conte, attesa per la data del voto online degli iscritti sul nuovo statuto. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Dunque lo avete sentito dai titoli è sempre più certa l'adozione del Green Pass per poter accedere ad alcuni eventi sociali, ad alcune attività. Se ne parlerà in una cabina di regia che verrà convocata per l'inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, dopo aver sentito naturalmente il parere del Comitato Tecnico Scientifico. L'obiettivo è quello di scongiurare altre chiusure, ma anche quello di ridare slancio ai vaccini che hanno subito un rallentamento nelle ultime settimane. Il nodo più spinoso riguarda le questioni di bar e ristoranti. I gestori sono già sul piede di guerra. Sono giorni chiave i prossimi per mettere un punto su quale sarà l'utilizzo del Green Pass. Si lascia passare il sanitario che si appresta a diventare fondamentale per ritornare ad una più serena socialità. Sorvegliati speciali, luoghi a rischio assembramento, nel tentativo di non penalizzare alcune delle categorie più colpite dalla pandemia, come ad esempio i ristoratori. Si cerca non propriamente il modello francese, ma più che altro una via italiana. Sul tema, infatti, la politica si divide e toccherà trovare una mediazione. Un utilizzo esteso del certificato, ad esempio la sua obbligatorietà per l'accesso a mezzi di trasporto a lunga percorrenza, è una delle ipotesi che, secondo fonti di governo, sarà valutata in occasione dell'attesa cabina di regia, che non è stata ancora convocata ufficialmente. Una riflessione obbligata che tenderebbe, almeno per alcune attività, a riservare l'ottenimento della carta verde solo dopo la seconda dose di vaccino. Contromisura, questa è in linea con l'UE, è volta ad evitare regole più restrittive, scongiurando nuove chiusure. Lo snodo dell'estensione della sciapassare verde potrebbe infatti portare, come in Francia, ad un boom di richieste di vaccinazioni. Ad oggi oltre il 47% della popolazione ha completato l'iter vaccinale, mentre il totale delle somministrazioni pian piano si sta avvicinando a quota 60 milioni. Un maggior peso dell'RT ospedaliero sui profili di rischio da assegnare alle regioni un altro elemento al vaglio dell'esecutivo, che convoglierà i provvedimenti nel nuovo decreto previsto entro fine luglio, quando, con ogni probabilità, sarà esteso lo stato di emergenza. Due al momento le ipotesi della proroga, fine ottobre o fine dicembre. E c'è la questione di centinaia di ragazzi che sono rimasti bloccati all'estero durante le vacanze, proprio per problemi legati al Covid, perché sono risultati positivi, o sono entrati in contatto con positivi, una questione che la Farnesina invita a tenere ben presente prima di partire. A lavoro i consolati di Grecia, Malta e Emirati Arabi e le famiglie preoccupate per capire come far rientrare in sicurezza e senza ritardi decine di studenti, bloccati perché positivi o in quarantena fiduciare in alberghi della Valletta, dell'isola di Ios e di Dubai. La tanto attesa vacanza, della maturità o il soggiorno studio sono diventati in poche ore ai luoghi della quarantena per tantissimi ragazzi italiani. La Farnesina, due giorni fa, aveva ricordato i rischi sanitari di una vacanza all'estero, perché nel caso in cui si risultasse essere positivi al test per il coronavirus o contatti di una persona positiva vanno seguite le norme disposte dalle autorità locali. Così sono 300 nella città degli Emirati, 200 sarebbero i positivi con sintomi debolissimi o non percepibili, contati con un secondo tampone dopo che in 11 avevano manifestato sintomi deboli. Il contagio è partito dalla visita a un mercato, ripetono, ma è difficile ovviamente trovare una conferma. A Malta gli 80 italiani partiti con l'associazione Gioca Mondo di Ascoli Piceno sono stati trasferiti tutti in questo che è diventato un Covid hotel. Daniele, il 9 luglio sarebbe dovuto rientrare a casa come tanti altri del gruppo e ancora minorenne. Siamo tutti quanti in ottima salute, anche i ragazzi che sono positivi sono tutti quanti in buona forma, nessuno di loro sta soffrendo particolarmente questa malattia e niente, speriamo di tornare il prima possibile in Italia. Per 15 diciottenni veneziani invece la loro vacanza a Io sarà quella della maturità partiti con una prima dose di vaccino. Dopo i sintomi per una ragazza i controlli si sono trovati in 5 positivi e tutti in quarantena in un albergo dell'isola delle Cicladi. Fiumi straripati, frane e nubi fragi in Germania sono decine le vittime e moltissimi i dispersi per l'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Germania. Diverse località sono rimaste isolate e i testimoni parlano di momenti drammatici. I danni al momento sono incalcolabili. Non abbiamo mai visto una catastrofe così distruttiva, dice Dreyer, il premier della Renania Palatinato. Il territorio è completamente devastato, città isolate, case spazzate via ed un bilancio che di in ora in ora si fa sempre più tragico e pesante. 67 morti e più di 1300 dispersi. Coinvolta non solo la Renania ma anche sempre in Germania, nel nord, Reno, Westfalia e poi il Belgio, il Lussemburgo e l'Olanda. Difficile capire in questo momento le dimensioni della tragedia. Dopo due giorni di piogge torrenziali è partita la gigantesca operazione di soccorso a cui prendono parte 15.000 tra pompieri, poliziotti, personale sanitario e anche i soldati della Bundeswehr, l'esercito federale. Ci sono decine di persone intrappolate sui tetti delle case in attesa di essere salvati dagli elicotteri. Molti edifici potrebbero crollare, più di 200.000 abitazioni sono senza elettricità. C'è il timore che possa cedere anche la diga che si trova a sud di Colonia, la Steinbachtal. Per questo sono stati evacuati quattro villaggi nelle vicinanze, circa 4.500 persone. Sono migliaia le persone isolate, la rete telefonica è fuori uso, sospesi anche i collegamenti ferroviari. Angela Merkel, da ieri negli Stati Uniti per incontrare il presidente Biden, si dice sconvolta dalla catastrofa che ha colpito così tanta gente. La mia compassione vale famiglia delle vittime e dei dispersi, ha scritto in un messaggio su Twitter. Anche il Papa ha voluto esprimere profonda vicinanza ai familiari dei dispersi, prega particolarmente anche per i feriti e per quanti hanno subito dei danni o perso i propri beni per la forza della natura. Secondo il servizio meteorologico tedesco, il picco del maltempo dovrebbe essere stato superato. E ci sono degli aggiornamenti sulla situazione. Sono salite ad 81 le vittime in Germania, mentre la cancelliera Merkel ha dichiarato temo che vedremo la piena portata di questa tragedia soltanto nei prossimi giorni. E parliamo adesso delle tante crisi aziendali che sono in corso e delle diverse imprese che dopo lo sblocco dei licenziamenti si stanno muovendo. Il governo fa un passo per tutelare i lavoratori e intanto arriva la notizia che sarà operativa dalla metà di ottobre la compagnia che nascerà sulle ceneri di Alitalia e che si chiamerà ITA. Un piano che però per i sindacati è inaccettabile. Alitalia cambia nome e riparte. Dal prossimo 15 ottobre Italia Trasporto Aereo, ITA, raccoglierà l'eredità del vettore attualmente in amministrazione straordinaria. L'accordo tra Governo italiano e Commissione europea si tradurrà in un piano industriale grazie a cui ITA acquisirà il settore volo con trattativa diretta, mentre il marchio, la manutenzione e l'handling, il complesso cioè delle operazioni di carico, scarico, controllo tecnico, pulizia e rifornimento dei velivoli, insieme con l'assistenza a terra dei passeggeri, saranno assegnati con gare pubbliche. Inizialmente ITA servirà a 45 destinazioni con 61 rotte che saliranno rispettivamente a 74 e 89 nel 2025. La nuova compagnia manterrà l'85% degli slot di Alitalia sullo scalo di Milano-Linate e il 43% su quello di Roma-Fiumicino. Nota dolente dell'accordo, la dimensione ridotta di ITA che andrà sul mercato con 52 aerei e 2750-2950 dipendenti del settore volo sui 10.500 di Alitalia. Nel 2025 salirà a 105 velivoli e 5.500-5.700 lavoratori. Per i sindacati, così com'è, il piano industriale rende ITA molto debole e chiedono un incontro con l'esecutivo. Il ministro dello sviluppo economico Giorgetti promette tutele per i dipendenti che non entreranno nella Liucò e per i passeggeri in possesso di biglietti acquistati dopo il 15 ottobre. Ed è proprio per scongiurare il rischio licenziamenti che ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato di sei mesi la Cassa Integrazione per cessazione per i dipendenti dell'Embraco in scadenza giovedì prossimo e di altre 13 settimane di Cassa Integrazione Covid per i dipendenti dell'Exilva di Taranto. Dopo i 340 licenziamenti annunciati martedì scorso, ieri un centinaio di operai della Whirlpool di Napoli ha manifestato bloccando l'ingresso della tangenziale di Via Argine e le partenze all'aeroporto di Capodichino. Per i sindacati l'azienda dovrebbe utilizzare le 13 settimane di Cassa Integrazione gratuita. Quanto alla fuga delle multinazionali, il Ministro del Lavoro Orlando, intervistato dalla stampa, propone a Giorgetti di inasprire le sanzioni per il mancato rispetto degli accordi. Sul fronte politico bufera passata tra Conte e Grillo. Lo stesso Garante ha postato una foto che li ritrae insieme sui social. Adesso il primo obiettivo è quello del processo penale, da rivedere l'accordo che è stato raggiunto in Consiglio dei Ministri. Vediamo. Un pranzo, ieri, per suggellare la pace ritrovata. È una foto postata sui social per testimoniarlo. Conte e Grillo sorridenti in un ristorante vicino alla Villa del Comico a Marina di Bibbona, in Toscana. E ora pensiamo al 2050, dice la didascalia del Garante su Facebook, in un invito a guardare al futuro e lasciarsi alle spalle lo scontro con Giuseppe Conte, che nell'ultima settimana ha esposto il movimento a rischio implosione. Tutti i big salutano la foto Opportunity con sollievo come una nuova pagina per la forza politica, a partire dai sette saggi incaricati della mediazione fra il Garante e l'ex Premier, risultato alla fine raggiunto. Non è sempre necessario scegliere tra due parti, è invece importante agire pensando all'unità, per costruire e rafforzarsi, scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Gli fa eco il reggente Vito Crimi, anche lui tra i sette pontieri. Non c'è nulla di più difficile da gestire, di esito incerto e così pericoloso da realizzare, dell'inizio di un cambiamento. Ma una volta avviato il cambiamento, nulla potrà fermarlo e si viaggia spediti verso nuove mete. Ora il Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte ha davanti un ultimo passaggio formale, il voto con cui gli iscritti dovranno dare l'ok all'investitura del leader e al nuovo statuto, consultazione online che dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Ma soprattutto all'orizzonte c'è il primo banco di prova per la leadership dell'ex premier, la riforma del processo penale su cui i 5 Stelle, ormai rinnegato il proprio sì in Consiglio dei Ministri, hanno promesso battaglia in Parlamento. Un'intenzione che contrasta con la volontà del governo di accelerare sull'approvazione del provvedimento. Per sciogliere questo nodo, la prossima settimana, forse già lunedì, Conte potrebbe incontrare Draghi. Sul fronte del centrotestra invece ad agitare le acque è l'esclusione di Fratelli d'Italia dal Consiglio di Amministrazione della RAI. A nulla servono le rassicurazioni di Salvini sul fatto che comunque il pluralismo sarà garantito perché c'è la rappresentanza di Lega e di Forza Italia. La parola poltrone stavolta nessuno la pronuncia, preferendo chiamare in causa il pluralismo, concetto abituale del resto ogni volta che in ballo tornano le nomine RAI. Stavolta più che mai, con una maggioranza che nel nuovo Consiglio di Amministrazione ha proiettato se stessa, a dispetto della tradizionale lottizzazione che finora aveva sempre accontentato bene o male tutti i partiti. La votazione dei quattro consiglieri in Parlamento, che si vanno ad aggiungere ai due indicati dal Presidente del Consiglio, d'intesa col Ministero dell'Economia e a quello eletto dai dipendenti dell'azienda, sette in tutto, lascia fuori dalla TV di Stato lo stesso partito che è fuori dal governo, ovvero Fratelli d'Italia, che lamenta ora un'improvvisa recrudescenza totalitaria che mina i fondamenti delle nostre istituzioni repubblicane e arriva a chiamare in causa il Quirinale. Noi esclusi dal Consiglio di Amministrazione, aggiunge la Meloni, spiace che Mattarella non sia intervenuto. Nessuno stavolta parla di poltrone, ma siamo sempre lì. Del resto la RAI è specchio fedele della politica, riflesso dei suoi guai e delle sue difficoltà, che non sembrano per la verità ancora finite. Visto che le nomine di Carlo Fuortes, indicato come amministratore delegato, e di Marinella Soldi, avevano già provocato qualche mugugno in Forza Italia e Lega, in quello stesso centro-destra, cioè da dove ora la Meloni polemizza apertamente. La nomina presidente della Soldi, in particolare, potrebbe diventare un problema in Commissione Vigilanza, chiamata a confermarla. Lei, proprio in questi giorni, alla ribalta delle cronache, per via dell'inchiesta relativa alla vicenda degli anomali compensi ricevuti da Matteo Renzi, dal manager Lucio Presta, indagato insieme al figlio, per programmi destinati a Discovery, allora guidata proprio da lei. In settimana prossima si vedrà quel che succede in una Commissione dove scontenti e voglie di ripicca non mancano nemmeno tra gli stessi Cinque Stelle, riusciti sì a mettersi d'accordo per una volta col PD sui due consiglieri, ma mostratisi più o meno apertamente divisi sul nome del loro candidato. Alcuni giorni di pausa per il disegno di legge ZAN contro l'omotransfobia, che ha respinte sul filo di lana le pregiudiziali richieste di sospensiva, scusate, le pregiudiziali e le richieste di sospensiva, se ne riparla in Aula al Senato martedì prossimo 20 luglio, data limite anche per la presentazione degli emendamenti. Il PD ha già annunciato che non depositerà proposte di modifica, mentre Italia Viva insiste sulla necessità di trovare un accordo con il centro-destra per cambiare i punti più controversi del testo, ma si rischia l'invio del disegno di legge a settembre. E sale intanto la tensione tra l'Unione Europea e Polonia ed Ungheria, che adesso hanno due mesi di tempo per rispondere alla procedura di infrazione attivata nei loro confronti. Vediamo perché. Procedure di infrazione contro Ungheria e Polonia per i loro provvedimenti anti-LGBT è sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione che condanna la riforma della magistratura varata da Varsavia. La giornata di ieri ha segnato un ulteriore innalzamento del livello di scontro tra Bruxelles e i due paesi. Gli avvertimenti del resto non erano mancati. La Presidente della Commissione von der Leyen all'Europarlamento aveva definito vergognose la legge ungherese che di fatto limita i diritti della comunità LGBT e quella polacca che permette l'istituzione di zone LGBT free, norme contrarie ai valori fondamentali dell'Unione. Le lettere di messa in mora sono dunque giunte ieri a Budapest e a Varsavia con tutto il loro carico di promesse di scontro dirompente, chiaramente percepibile nelle parole del capo di gabinetto del premier ungherese Orban, il quale ha dichiarato come la procedura di infrazione interferisca nelle leggi dei singoli paesi e rischi di mandare in frantumi l'intera Unione europea. Ora i due paesi avranno due mesi per rispondere, poi potrebbe scattare il deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione, la stessa che, come dicevamo, ha condannato la Polonia perché la sua riforma della magistratura non fornisce tutte le garanzie di imparzialità e indipendenza e in particolare di protezione dall'influenza dell'esecutivo. Tutte le decisioni della Corte UE sono vincolanti e ci aspettiamo che vengano applicate, in caso contrario la Commissione non esiterà a usare i suoi poteri, ha avvertito il portavoce Eric Mamer a fronte delle proteste di Varsavia che se non dovesse adeguarsi potrebbe andare incontro a severe sanzioni, da una multa salata al congelamento dei fondi strutturali in seguito all'attivazione del meccanismo sullo Stato di diritto. Il tutto, mentre continua ad essere in sospeso l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Polacco, così come di quello, un gherese. Lo sport con il calcio è la prima intervista di Donna Rumma dalla sede del Paris Saint-Germain, mentre fa in sostanza il percorso inverso da Parigi a Milano l'attaccante della nazionale francese Giroud. Ha scelto la maglia numero 50 abbandonando la sua amata 99 Gigio Donna Rumma. Ieri per lui a Parigi è una giornata speciale che ha anche coinciso con il matrimonio del suo nuovo compagno di squadra Verratti. Felicità che traspare da ogni espressione e la promessa di traguardi ambiziosi in un club che, come da collaudatissimo copione del calcio mercato, era sempre stato nei suoi sogni. Parigi l'ho sempre guardato dalla TV perché è sempre stata una squadra incredibile e è normale che sogni di un giorno di stare con tutti questi campioni che sono qua. Per un ex milanista che va a Parigi è un francese doc che veste il rosso-nero. Olivier Giroud è pronto per la sua nuova avventura. Dopo il blitz di ieri a Milano, a fine mese tornerà per tentare il beast della Champions vinta a maggio con la casacca blu del Chelsea. Cambiano molte cose pure in casa fiorentina. Ieri, in una location mozzafiato come Piazzale Michelangelo, il nuovo allenatore, ex Spezia, ha chiarito il suo approccio nei primi giorni di lavoro sulla panchina viola. Se non si aggiunge questa parola a questo mestiere, a questo sport, se non c'è divertimento, come la definisco io, è la morte sportiva. Quindi il mio primo obiettivo è quello di sentir dire a più ragazzi della Fiorentina mister e guarda ci stiamo divertendo, mister e guarda è una gioia venire al campo. Da parte sua la Federcalcio prova a chiudere le polemiche del dopo europei legate alla sfilata degli azzurri sul pullman scoperto per il centro di Roma e poi rilancia. Possibile la nostra candidatura per l'edizione 2028 oppure per i mondiali di due anni più tardi. Sarebbero pronti stanziamenti per l'ammodernamento di otto stadi. Mentre per fine luglio il presidente Gravina promette novità importanti per il ritorno del pubblico sugli spalti. Utilizziamo, dice, il Green Pass in modo rapido ed efficace anche nei nostri impianti. E in Formula 1 si apre una nuova era. La griglia di partenza sarà determinata in base alle sessioni di oggi e domani altra importante novità sperimentale si disputerà un mini Gran Premio di 17 giri senza fermate ibox. E ieri gli organizzatori hanno svelato le novità regolamentari destinate ad andare in vigore dal prossimo anno. Aerodinamica semplificata sia all'anteriore sia al posteriore ed un fondo vettura progettato per rendere più facile il sorpasso. Cambieranno anche le gomme studiate per durare molto più a lungo con una buona aderenza. I piloti al loro primo contatto soltanto visivo per adesso con la monoposto del futuro si sono detti impazienti di scendere in pista con le nuove regole. Ed è tutto per questa edizione ora le informazioni sul traffico con Valeria Colombo e il meteo di Palo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pennacchioli ospiti Claudia Fusani, Stefano Cambiani, Sabino Cassese, Livio Gigliuto, Alessandro Sansoni ed Enrico Borghi e poi a seguire Coffee Break condotto da Andrea Pancani gli ospiti sono Federica Fantozzi, Dario Galli, Barbara Lezzi e Marco Rivelli. È tutto, vi auguro una buona giornata.